Ciao domotici, vi ricordate quello strano video che è uscito un po' di mesi fa sulla colla Patex? Ebbene sì, grazie ai vostri click e alla vostra fiducia che mi avete dato, nonostante il video non c'entrasse niente sul canale pensiero dell'architetto, sono riuscito ad attivare la nuova campagna relativa ai prodotti di tecnologia e di domotica con la Leroy Marlene. E partiamo ora col primo prodotto, ma prima sigla! Eccolo qua, il sensore per esterni della Philips Hue, un sensore spettacolare, molto compatto e robusto, che riesce ad arrivare ad un'angolazione nel senso orizzontale di 160 gradi e nel senso verticale di 80 gradi. Questo sensore è IP54, perciò resiste a tutte le intemperie, può essere installato nel nostro giardino di casa, nel nostro vialetto di casa, quando arriviamo a casa, apriamo il cancelletto e lui ci rileva, di farci già trovare magari le luci accese in casa, oppure accendersi la luce del vialetto, oppure avvertirci tramite un messaggio di Alexa che è stato rilevato qualcuno nel nostro giardino. Serve sia da antifurto che da attivazione di altri dispositivi domotici. Questo bellissimo sensore, offerto appunto dal Ruan Marlene, e mi raccomando, cliccate sul video il mi piace e cliccate il link al prodotto, perché solo cliccando il link al prodotto mi attiveranno altre campagne di promozione di prodotti domotici. E devo dire che per essere il primo prodotto è un prodotto già abbastanza interessante, anche perché il prezzo non è proprio regalato, ma la qualità della Philips Hue è strepitosa. Andiamo ora a vedere cosa contiene il pacchetto. Nel pacchetto, molto ben confezionato, no, lo strappato. Il pacchetto, molto ben confezionato e protetto, racchiude, parlo appunto, i nostri tassellini per il fissaggio, il nostro sensore, che come vedete è molto ben fatto e rifinito, e questi due strani aggeggi che poi andremo a vedere in cosa consistono e a cosa servono. Partiamo subito dall'analizzare il nostro sensore. Il sensore Philips Hue è, come dicevo prima, è resistenza all'intemperie, è molto semplice, praticamente consta di 4 vite sul retro che andremo, se si vanno a togliere, si vanno a cambiare le due batterie alcaline. Queste batterie sono già attivate, nel senso che voi, la prima volta che andate a cliccare questo pulsante, che è l'unico pulsante che trovate, che è il pulsante per la configurazione e per il pairing, cliccando qua si attivano le batterie, le batterie hanno una durata di circa due anni. Questo sensore viene utilizzato principalmente come il bridge della Philips, ma può essere anche utilizzato, difatti poi lo vedremo insieme, con Home Assistant viene immediatamente riconosciuto essendo ZB dalla nostra chiavetta ZB. Una volta inserito all'interno di Home Assistant andremo a fare tutte le automazioni possibili per farlo interagire al meglio. La figata di questo dispositivo, ragazzi, è che oltre a essere un elevatore di presenza, rileva la luminosità, e fino qua ci siamo, ma rileva anche la temperatura, grazie a questo piccolo forellino che trovate, che vedete qua sotto. Il certificato CE ha un peso di circa 125 grammi, ha dimensioni abbastanza importanti, però calcolando che dobbiamo mettere sull'esterno ci sta anche che questo venga messo e che sia anche visibile. Andiamo a vedere i suoi supporti. Praticamente viene venduto con un supporto, che questo qua è quello diciamo più standard, dove andiamo a mettere il tassello, di cui abbiamo già due tasselli in dotazione, viene installato al muro, con questa forma particolare che vedete ha queste ghiere, si mette al muro e poi si va a inserire qua dentro. La vitina che trovate qua sotto, sopra, sarà quella che va a fissare il tutto al muro. Ma se noi vogliamo metterlo su un angolo, abbiamo a disposizione questo aggeggino qua. Questo aggeggino qua è veramente una figata, perché andrà ad accoppiarsi, prima con l'aggeggino che abbiamo visto prima, e poi il tutto con il nostro sensore di movimento. Tra l'altro questo sensore ha questo spazio interno, vedete questo buco, dove si può tranquillamente andare a fissare un palo grazie a una fascetta. Perciò l'installazione è molto semplice e veloce. Cosa serve a questo elemento? Questo elemento serve per l'appunto per andare a installare il nostro sensore di movimento da Philips Hue direttamente negli angoli. Guardate che bello, in questo modo viene installato a 45 gradi. Cosa faremo? Mettiamo questo, mettiamo i tasselli, installiamo il pezzettino, quello più piccolo, e poi andremo a mettere il nostro sensore direttamente in questa posizione. La stessa cosa può essere anche messa nel classico angolo, in questa posizione qua. Vi ricordo che va a rilevare 160 gradi in orizzontale e 80 gradi in verticale. Ora andiamo a vedere sul nostro Home Assist come andare a integrare questo sensore. Iniziamo facendo il paring. Per fare il paring basta andare a tenere premuto per due secondi il pulsante qua dietro, e poi lui farà la classica lucina rossa. Ok, vedete, sta lampeggiando, in questo momento andiamo ad attivare il nostro rilevatore di Home Assistant relativa al rete ZigBee. Andiamo ora a vedere su Home Assistant come andare a configurare il sensore di movimento della Philips Hue. Prima di continuare, però, ancora un grazie all'Eroma Marlene, che mi permette di andare a recensire questi prodotti di domotica per la nostra casa smart. Vi ricordo ancora una volta di andare a cliccare sul link del prodotto. Andiamo avanti con la recensione. Bene, andiamo su Home Assistant, andiamo giù in Impostazioni. Dispositivi e servizi. Andiamo a cercare il nostro ZHA. Aggiungiamo un'integrazione sempre con il ZHA, essendo un sensore CB. Qua lo sta cercando, l'ha trovato, configurazione, inizializzazione del nostro sensore. E qua vediamo tutte le entità che vengono importate. Andiamo a impostarlo nell'area Giardino. Qua vi fa vedere la batteria, lo stato della batteria, lo storico. Qua si può impostare la sensibilità del sensore. La luce. Il rilevamento del movimento. E il sensore di occupazione dell'area in cui sta rilevando il sensore. Nonché... E ora torniamo qua sui nostri prodotti Zigbee. E andando sul sensore, praticamente vediamo che ci importa già nelle varie card, tutte le varie entità. Andiamo a salvare nella pagina video. Lo facciamo anche con le altre card. E così avremo sotto controllo tutte le entità del nostro sensore Philips Hue. Di qua andiamo a impostare un'automazione. Dove andiamo a dirgli praticamente che alla variazione di un determinato valore andate ad accendermi la luce. Andiamo a selezionare la zona. Nel nostro caso la luce della cucina, il LED. La nostra automazione, una volta dato il titolo, è bella che è impacchettata. Vi conviene sempre fare l'automazione direttamente dalla pagina del dispositivo. Così vi dà già tutte le casistiche già preimpostate per andare a personalizzare le vostre automazioni. E rilanciamo Home Assistant. Andiamo in video. Qua troviamo, per l'appunto, le card del nostro sensore della Philips. Vedete che ha già iniziato a rilevare. Ha un rilevamento con tempi abbastanza contenuti. Infatti ogni circa 30 secondi o un minuto vedo che il sensore si aggiorna. Qua vi ho evidenziato il valore dell'illuminazione e la temperatura. Sì, perché questo sensore fa anche da sensore di temperatura. Grazie alla Roi Marlen per questa opportunità che mi ha dato. E con questo vi saluto e buona domotica a tutti. Al prossimo video. Ciao, mi raccomando, ricordate di cliccare sul prodotto, mettere un mi piace e anche un commento al video. per far partire questo video e promuovere così nuove campagne sui prodotti domotici della Roi Marlen. Ciao, buona permanenza sul canale Pensiere d'architetto. Al prossimo video. Ciao, ciao.